Da Giorgio Vasari ai laboratori per i più piccoli, dai contest alle nomine del nuovo organico. Il museo Oro d'Autore di Arezzo, dopo aver ottenuto il prestigioso riconoscimento di museo di rilevanza regionale dalla regione toscana, si presenta in una veste totalmente rinnovata con numerose attività in programma. Che a questo punto funziona come un vero network culturale, nel senso non è semplicemente un museo, ma si attiva per fare e svolgere regolarmente delle attività all'interno dei suoi spazi. In particolare sono iniziative rivolte ai più piccoli e anche perché l'idea è di portare sempre di più i giovani aretini dentro il museo perché questa è una struttura non solo dedicata ai turisti ma parla della storia della propria città e di questa cultura che intorno a loro ha costruito e costruirà momenti di gloria. Spazio anche alle celebrazioni del 450esimo anno dalla morte di Giorgio Vasari, previste per il 2024, a 15 artisti e designer per lo più aretini ma anche scultori internazionali, sarà chiesto un progetto per un gioiello o un ornamento ispirato e dedicato al primo storico dell'arte italiano. Una personalità eccezionale che ha lasciato delle opere clamorose ad Arezzo anche dedicate all'oreficeria. Si ricorda la famosa scena di Esther e Assuero perché lì c'è tutta la somma dell'oreficeria che aveva imparato. Lui le rappresenta in tutta la loro essenza, in tutta la loro intimità. Quindi questa sarà fonte di ispirazione sicuramente agli artisti. All'interno delle celebrazioni dedicate a Vasari è anche un contest rivolto alle scuole. Un'iniziativa sicuramente importante perché sarà un'iniziativa che coinvolgerà anche i ragazzi fino a 12 anni, cioè insegnare ai ragazzi già alla manualità del gioiello e, come ho sentito prima, anche alla possibilità di riciclare dei materiali per creare il gioiello. Tante infine le attività dedicate ai più piccoli, come il laboratorio di Natale, Crea il tuo gioiello d'autore e una vincente caccia al tesoro. È un regalo che faremo a tutti i bambini che verranno con le famiglie a visitare il museo d'autore e che li porterà a scoprire alcuni gioielli particolari presenti all'interno della collezione fino ad arrivare ad un vero e proprio tesoro presente dentro al nostro museo. In palio, per chi riuscirà a completare questa caccia al tesoro, ci sarà un piccolo regalo.